Ho saputo che hai assistito ad un intervento con la famiglia del paziente. Che hai parlato con la famiglia del paziente? A causa delle tue allucinazioni, vero? Dopo che ti hanno sparato, hai scelto la vita e hai deciso di darle un senso. Perciò hai accettato un caso privo di mistero, alla portata di qualunque medico. Un caso, diciamo, banale, ma che può darti la soddisfazione di aiutare un altro essere umano. La moglie mi ha ringraziato. E tu non hai provato niente? Non so nemmeno che cosa avrei dovuto provare. I tuoi sentimenti sono atrofizzati come la tua gamba. Continua a lavorarci, vedrai che arriveranno. Scusa, Karen ha bisogno di te. Avevo detto di sbatterla fuori. Ha un senso di oppressione al torace, non riesce a respirare, è un versamento pleuro. Certo, magari tratteni il respiro come una bambina capricciosa.